Weekend di freddo e gelo in Campania, nevica nel sud della provincia di Salerno, ma anche nell'Alta Valle del Sele, nel Vallo di Diano, nell'Alta Valle del Calore. Le imprese della provincia di Salerno sono a lavoro ovunque, uno scenario spettacolare ma anche pericoloso, ha commentato il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese. Particolarmente critica la situazione sulla strada provinciale 103, al confine con la Lucania, nei pressi di Montesano sulla Marcellana. Mezzi Spalaneve e Spargisale sono a lavoro anche a Buccino, Romagnano al Monte, Castelnuovo di Conza, Santomenna e Laviano. A Salerno minime di un grado e massime di 7 gradi con venti a 17 chilometri orari. Un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sta portando neve e gelo anche a cote basse e in costiera amalfitana. Nelle zone collinarie montuose, tra Lavello e Tramonti, sono caduti i primi fiocchi di neve, con i volontari della pubblica assistenza chiamati alle operazioni di spargimento sale sulle strada provinciale Lavello-Chiunzi e per le strade di Tramonti per evitare la formazione di ghiaccio. Uno dei problemi messi in luce nelle ultime ore è anche collegato ai contatori e agli impianti idrici che molto spesso subiscono danni dalle gelate. Per questo motivo la società idrica Gori ha voluto aiutare i propri utenti e tutti quelli che ne hanno necessità con un tutorial per proteggere gli impianti. La prima cosa da fare è rivestire con materiali isolanti come la carta da imballaggio i contatori ubicati all'esterno. Il secondo consiglio è quello di lasciar scorrere un filo d'acqua durante la notte per non far congelare il liquido all'interno delle tubature e raccogliere l'acqua in un recipiente per evitare lo spreco.